Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Video aggiornamento dedicato alle novità di quest'oggi, quindi in questo contenuto vi mostrerò quali sono tutti i pack usciti oggi e chiaramente come sempre vi darò i miei consigli. Prima di andare avanti mi raccomando vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Questa parte lo sapete è fondamentale, ci mettete un secondo, quindi se apprezzate il mio lavoro non dimenticate l'iscrizione, la campanella e il like. Il mio torneo è organizzato da me, l'Outplayed Simo Play Championship, torneo su PlayStation, sui Football 2023, chiaramente completamente gratuito, con orari flessibili, con giorni flessibili. Trovate tutto scritto nel video tutorial che vi lascio in descrizione ragazzi, dove spiego tutto. E chiaramente attraverso quel video tutorial capirete anche come iscrivervi a questo fantastico torneo. Ma qual è la particolarità del torneo? Oltre a essere gratuito c'è una PlayStation 5 Digital Edition in palio per il primo posto. Quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi numerosi e affrettatevi perché le iscrizioni chiudono l'11 maggio. Non perdiamo ulteriore tempo ragazzi perché non voglio fare un contenuto estremamente lungo in quanto comunque le novità non sono tantissime però è giusto riportarle. Partiamo ovviamente dai nuovi pack e c'è un pack dedicato ai giocatori del Chelsea, chiaramente un club selection e andiamo a vedere un pochettino quali sono i giocatori contenuti all'interno e ovviamente quali vi consiglio. Kanté, mediano chiaramente, è un mediano onnipresente, è una buonissima carta che secondo me però con il gameplay attuale, con il modulo che utilizzo io o comunque similare va utilizzato con un'istruzione difensiva sulla capoccia. Quindi ragazzi non è tanto consigliato per come gioco io. Al limite lo potete utilizzare come centrocampista centrale con questo gameplay perché tra l'altro non ha i piedi brutti, anzi tutt'altro. Essendoni presente vi andrà chiaramente a fare anche la fase difensiva, sarà un po' dappertutto ma non ve lo consiglio come unico mediano, diciamo. Deve essere sempre affiancato a un collante. Con i vecchi gameplay io lo utilizzavo da solo con l'istruzione difensiva ma era un altro tipo di gameplay. Con questo gameplay secondo me non può essere utilizzato come unico mediano però comunque rimane una grande carta e rimane una carta da consigliare perché Kanté ovviamente è fortissimo. Chilwell, terzino offensivo con belle statistiche. Secondo me si è livellato bene andandogli a dare un po' di comportamento difensivo, contrasto, eccetera, eccetera. Può fare con un'istruzione difensiva assegnata, chiaramente. Ci vuole il difensivo. Può fare anche il terzino che rimane dietro, ragazzi. Perché comunque ha un'ottima velocità, non è 1,60 e 1,78. Come vi ho già detto i terzini non devono essere dei giganti a differenza dei difensori centrali. Quindi ragazzi, lui lo consiglio. È una bella carta, sinceramente. Mendy, i portieri non li vedo mai, lo sapete perché tanto il portiere è abbastanza casuale. Cioè, ti può parare come non ti può parare a meno che non lo utilizzi in manuale, ovviamente. Ma non lo puoi utilizzare sempre in manuale, questo è da specificare. Covaci, centrocampista centrale, anche lui onnipresente, ma nettamente inferiore, secondo me, rispetto a Kanté. Quindi, certamente, se dovete scegliere tra lui e Kanté, dieci volte Kanté, non mi piace tantissimo, però non mi fa nemmeno schifo, secondo me. È comunque una buona carta, quindi si può consigliare. Chiaramente vale la stessa cosa di Kanté. Cioè, va utilizzato come centrocampista, affiancato a un mediano di stazzacollante, secondo me. Pulisic ha la prolifica. È una bellissima carta, ragazzi. Andiamo a vedere, togliendo un momento il mio faccione, quali posizioni disponibili ha. Alla sinistra, alla destra, non è molto versatile. Questo è un difetto, soprattutto su questo gioco. Con panchina corta, hai bisogno di giocatori che ricoprono più ruoli, tendenzialmente. Quindi, non è un granché, secondo me. Andiamo a vedere anche, magari, le skill. Sì, ha un doppio tocco. Ha un'astuzia, quindi tende a guadagnare calci di punizione. Ha leader, cioè fa aumentare comunque la prestazione dei giocatori quando indossa la fascia da capitano. La prestazione della squadra è a riserva di lusso. Quindi, nel secondo tempo, tende ad avere prestazioni migliori. Sensazioni migliori, però, di certo, non è da consigliare. Quindi, questa carta non la consiglio. C'è di meglio. Gallagher, anche in questo caso, onnipresente. Troppi onnipresenti, ragazzi. No, lui non mi piace, non mi piace. Troppi onnipresenti in questo pool. Poi, terzino destro, difensivo. Azpilicueta, ragazzi. Gran terzino destro, con ottime statistiche, difensivo. Quindi, in teoria, non ha bisogno dell'istruzione difensiva assegnata nelle tattiche. Ma, perché il terzino difensivo, come sicuramente saprete, tende a non fare la fase offensiva, a rimanere indietro. Però, però, con questo gameplay, come dico sempre, è tutto abbastanza anarchico. Cioè, nel senso, anche se è un terzino difensivo, tende comunque un po' a salire. Quindi, mettetegli l'istruzione difensiva, come faccio io, anche se è terzino difensivo. Però, ha belle statistiche. Gli livellate la velocità, il comportamento difensivo. E 1,78, altezza giusta per fare il terzino. Chiaramente, la velocità la portate sopra l'80, possibilmente. Lui lo consiglio, perché è una bella carta. Ed i terzini difensivi buoni ce ne sono pochi in questo gioco, ragazzi. Ve lo dico chiaramente, soprattutto in carte speciali. Quindi, lui è veramente una bella carta. Poi c'è Mudrik, taglio al centro. È una bellissima carta, schillatissima. Ha controlla di suola e doppio tocco. Quindi, se gli andate a inserire la skill elastico, vi fa la crocchetta esattamente come fa Neymar. E, insomma, ragazzi, non è assolutamente male. Anche vedendo le statistiche, già in fase di corsa, diciamo, sono molto elevate. Quindi, lui mi piace. Però, vediamo un po' che posizioni fa. Può giocare anche a centrocampo, quindi è anche abbastanza versatile. È un bel giocatore, lo consiglio. Andiamo a vedere anche i nuovi eventi che sono stati inseriti nel gioco. Abbiamo questo National Teams, iniziato oggi fino al 15, con Impalio. Vediamo, vediamo, vediamo. Sicuramente un programmabilità. Vabbè, ma qua... No, solo semplicemente bonus giocatori. Quindi non c'è l'obbligo di inserire giocatori di quelle squadre che avete visto. 30 e 30, 60.000 GP, poi un programma aggiuntabilità e poi 100 GP ogni 1.000 punti. Molto semplice. Poi, vediamo un po' se hanno aggiunto qualcos'altro. Questo qui, National Teams. È iniziato oggi. Bisogna includere 18 giocatori selezionati, cioè 18 giocatori convocati nella nazionale selezionata nello schema di gioco. Di queste nazionali qui. E si vince un programmabilità per due programmabilità. Quindi sono già tre programmabilità, 50 monete. Buono. E poi... E poi no. Non abbiamo nient'altro, ragazzi, per questo tipo di eventi. E poi, ragazzi, per concludere, la Konami ha aperto due sondaggi. Un sondaggio stella nascente. Vediamo di che si tratta. Il sondaggio stella nascente è in corso. I giocatori scelti saranno introdotti nel gioco in versione in evidenza. Puoi votare un massimo di tre giocatori dall'elenco dei candidati. Partecipa al sondaggio e dici la tua al futuro. Quindi fai click qui per il sondaggio con il triangolo. E andiamo a vedere direttamente dalla console. Così vediamo se si può fare anche per chi ha solo la console, magari. Ragazzi, si accede in questa pagina. Dove chiaramente dice in inglese che si possono votare al massimo tre player. E molto semplicemente si fa next e si votano i tre player che si vorrebbero vedere come giocatori in questo pack speciale. Vediamo un po' che c'è. Vediamo un po' che c'è. Allora, Mbappé. Mettiamo Mbappé. Così non si sa mai. Rimetto Kovara, magari. E mettiamo... Lookman, che mi piaceva molto. Un suo modo di giocare. Facciamo Dawn. E ci dice grazie per aver partecipato. E niente, questo abbiamo fatto. Abbiamo votato. È un sondaggio anonimo. E invece l'altro sondaggio si tratta del sondaggio MVP dei club Ligan. Il sondaggio è la stessa cosa. I giocatori scelti saranno introdotti nel gioco in versione in evidenza. Quindi si preme sempre triangolo. E niente, stessa cosa. Se non erro tre giocatori, anche qui facciamo zoom, vediamo. No. Un giocatore per club, in questo caso. È diverso il tipo di sondaggio. Andiamo a vedere com'è. Allora. Ah, per tutti i club della Ligan. Un giocatore per club. Allora, Nouri. Io li metto, cioè, così, raga, perché non mi interessa proprio, sinceramente. Però vi sto facendo vedere chiaramente come si fa. Potete scegliere il giocatore. Fofana. E niente, raga. E poi andate a mettere tutti i giocatori. Ma non mi va di farlo tutto, sinceramente. Però fondamentalmente si fa così, raga. E così avete la possibilità di dire la vostra anche sui prossimi giocatori che usciranno in questo gioco. Io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, nelle novità arrivate quest'oggi. Fatemi sapere se avete aperto il pack Chelsea con all'interno Kanté. Insomma, ditemi un po' la vostra, perché per me, come sempre, è molto importante. Io vi ringrazio per essere stati miei compagniani. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto. Alla vostra Simo Play. Bella ragazza. Alla vostra Simo Play.